Buone notizie per i nonni vigili che percepiranno quanto dovuto da parte del Comune di Teramo. Noi in questo scorcio di fine anno abbiamo pagato un po' tutti quelli che potevamo pagare, compresi i nonni vigili. Stamattina è stato fatto il pagamento e quindi anche i nonni vigili per Natale percepiranno la loro indennità. Anzi, io li ringrazio per l'attività che svolgono quotidianamente. Grazie.